buongiorno amici e buon martedì qui a roma c'è un sole meraviglioso io vi scrivo la mattina mi scuso se ho bugato gli ultimi due appuntamenti ma non avevo veramente voce non sarei riuscito a incidere un bel messaggio come stamattina mamma mia stamattina che faticata ieri sera a momenti ci pareggiano il 9 mamma mia stasquadra o vince per ogni volta una sofferenza vabbè mo pare che mi sta lamentando i modelli mancano 18 punti alla salvezza perché noi quello puntiamo chiaramente ma non è tantissima vabbè comunque io di te fosse andato a lavorare con sta Lazio però meglio andare a lavorare e vince che andare a lavorare e perde cosa so dire no e chissà aspettava all'undicesima sta a terza in classifica in coabitazione con l'Atalanta e la Fiorentina per carità però sempre terzi speriamo finché dura fa verdura come si sol dire certo che quando smetteranno di correre non lo so come andrà a finire beh mica tanto bene però per adesso corrono ancora corrono tanto ci fanno a dannà ci fanno faticà pare che giochiamo noi a fine bene però a Lazio vince e questo è l'importante io vi saluto a tutti vi auguro una bellissima giornata e vi mando un bacio